Una lite per futili motivi alla base del ferimento di un uomo di 57 anni di Gela che è stato colpito con un coltello dal padre, un anziano pensionato. Questa almeno la primissima ricostruzione su un'aggressione avvenuta a Gela. Il 57enne è stato soccorso subito dopo l'accaduto e visti i contorni della vicenda del caso sono stati interessati i poliziotti del commissariato di Gela che stanno cercando di ricostruire con precisione i dettagli dell'accaduto.